Anche quest'anno il ministro dell'istruzione ha voluto mantenere invariata la formula dell'esame di Stato, quindi l'esame sarà sostanzialmente un unico orale composto da diversi momenti. Questo non vuol dire che l'esame sarà una licenza tranquilla senza bisogno di studiare, ma sarà un esame comunque selettivo, come sarà selettiva l'ammissione all'esame di Stato. L'anno scorso sono state adottate maglie molto larghe a seguito di una situazione che era più grave di quella di quest'anno. Quest'anno si manterrà una formula più leggera, ma ovviamente bisogna guadagnarsi la promozione, bisogna guadagnarsi il diploma. Quindi vi invito tutti a studiare per essere ammessi all'esame di Stato e quando sarete ammessi a studiare per sostenere questo colloquio nel modo migliore possibile. Perché davvero nulla viene regalato, ma tutto deve essere meritato. La scuola questo deve insegnare.